Allucinata, allucinata. Come stai? Eh, quei gatti. Ascolta, dai. Eh, quanti ne avete adesso? Tre, addirittura. Allora, Sabrina, la mia amica da Milano, torniamo a incontrarci di nuovo in Messico, qui a Huacaca. Sì. E quindi, che pensi di questo nuovo incontro e di stare qui a Calatlaco oggi? Andiamo a vedere una mostra fotografica, no? Eh, andiamo a vedere una mostra fotografica, sono molto contenta perché con Alex ci si incrocia sempre molto bene. E va bene così. E va bene così. E dopo ci siamo conosciuti a Città del Messico e adesso siamo qui per la terza volta. Abbiamo fatto un workshop insieme a Milano. Abbiamo fatto un workshop insieme a Milano e adesso siamo qua a Huacaca. Sfruttando il sole di... Sfruttando il sole di... Sfruttando il sole di... Il sole di... Il sole di Huacaca. La bellezza di Huacaca, della sua gente. La luce, bellissima. Rilassati. Rilassati. Belli e rilassati. Aspettando la mostra. Grazie Sabrina, ciao. E' come la mostra. E' come la mostra. Ok, in every picture I use... How is your expression? Hola! It's already arrived. My mother. Ah! Yes? Yes, my mother. All this work is yours. And yours too. Yes, but it's more yours than mine. Because if you hadn't been there, I would have been there. You wouldn't exist. Echate a walk slowly. I love you. 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 Let's go. I love you. I love you. I love you. I love you. Grazie a tutti.